Catiusha Marini, Presidente della Regione Umbria, la firma di un protocollo d'intesa tra la Regione Umbria, la Croce Rossi Italiana e la ASL Umbria 1 a favore delle persone non udenti, sicuramente un progetto che favorirà soprattutto dal punto di vista sanitario le necessità di questi soggetti. Sì, questo è un progetto promosso, voluto dall'ente nazionale Sordi che vede una collaborazione importante della Regione che lo sostiene anche finanziariamente, quello di acquisire delle tecnologie che saranno anche gestite poi in convenzione con il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana che permetteranno attraverso una serie di ausili alle persone che non sono udenti, attraverso il linguaggio dei segni e le moderne tecnologie, quindi iPad, iPhone, computer, di poter mettersi in collegamento per accedere a tutti i servizi del servizio sanitario come le prenotazioni, ma soprattutto queste tecnologie permetteranno alle persone non udenti di poter entrare anche nell'accesso della rete di emergenza e urgenza senza l'ausilio di altre persone. Oggi una persona sorda deve fare riferimento sempre ad un'altra persona che fisicamente lo aiuta e quindi con problematiche anche di sicurezza quando sono sole. Con questo progetto che vede insieme la Regione che lo attuerà attraverso l'azienda sanitaria 1 di Perugia per conto di tutto il sistema sanitario. La Croce Rossa e lo stesso Comitato ENS potremmo rendere possibile e più mettere in condizioni migliori le persone non udenti di poter essere sicure e accedere anche da sole alle prenotazioni del servizio sanitario. Un progetto che rientra nell'ambito delle politiche di inclusione sociale della Regione? Sicuramente è un progetto importante sia dal versante del sistema sanitario sia soprattutto dell'inclusione sociale. Le persone con disabilità dell'udito peraltro quasi sempre hanno persone che non riescono a comunicare se non con il linguaggio dei segni e quindi a volte si sentono escluse ed isolate anche su servizi fondamentali come quello del servizio sanitario. È un progetto pilota, lo sperimenteremo tre anni ma siamo anche orgogliosi che l'Umbria sia una delle prime regioni di questo paese che realizza questo progetto.